Grazie a tutti La squadra avresti voluto vedere nel prossimo squad builder Appunto in questo squad builder E appunto abbiamo dato tre possibilità, tre scelte La prima era quella di fare un'ibrida da 100.000 crediti come punta Balotelli La seconda quella di fare un'ibrida con 200.000 crediti Costituita da giocatori della Barclays e della Liga BBVA E la terza era una squadra inventata da noi Ma proprio alla grande Ed era la squadra stupefacente E adesso capirete il perché Innanzitutto guardiamo un attimo i voti 33 volte ricevuto la squadra con Balotelli 54 voti la librida da 200 k E invece 284 voti La squadra stupefacente Quindi oggi siamo qui a presentarla Ragazzi il portiere Partiamo su Innanzitutto è forte o no? Allora è imbattibile È imbattibile È imbattibile Abbiamo perso una partita A dir poco divino A dir poco divino Abbiamo perso una partita Però è imbattibile ragazzi Allora importa Importa lo facciamo dire allo minchia guardi Perché ragazzi Dicelo Importa che abbiamo Abbiamo beh sicuramente un portiere Che non può non fare miracoli Santa Maria Eccolo Ragazzi Il magico Mamma mia Una sola parola Senza parole No proprio Senza parole Mamma mia Senza parole Passiamo invece ai difensori Io vi posso dire una cosa Allora Il riparto più magico di questa squadra È la difesa Capirete da soli Partiamo subito Il primo è bronzo Il primo è bronzo Il primo invece ad argento Abbiamo banana Mamma mia Ragazzi Banana 50 euro Non sono esaltato 69 di difesa E questo dice tutto Qualcosa 74 di testa Ma Banana Lo si accoppia con qualcun altro Oddio Sia questo qualcun altro Ditemelo Ditemelo E dirò Un culo Banana un culo Notare l'accoppiamento L'accoppiamento Tattico ragazzi Un culo È veramente forte 77 di velocità 82 di difesa 76 di testa Ragazzi Se vi è piaciuto veramente tanto Ma Un culo alla banana Chi ci vuole Chi ci vuole Ditemelo È bronzo Lui è bronzo A completare il trio A completare il trio L'uomo anche è Bong Ragazzi Bong Chi face Non so se avete l'idea Banana Un culo Bong E ragazzi Adesso Difesa impenetrate Difesa impenetrate Chi c'è adesso Madonna Adesso Ne mettiamo due Chi sono queste due Non lo trovate È talmente forte Che non lo trovate Perché non è Camerumense Attenzione Perché non è Camerumense Non l'avevo visto Ragazzi È spagnolo Spagnolissimo Ci vanno le due pere Madonna Ragazzi 69 di velocità E come banana Questo dice tutto C'è solo lui C'è solo lui C'è Ma il terzino sinistro Non vogliamo dire Lo diciamo Lo diciamo Io non ce la faccio Troppo Non ce la fai No 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 Io Ce n'è solo uno Di terzino sinistro Io vado a cercarlo Perché tra Bong Le due pere Non ci può non essere La bamba Guardate il profilo La faccia di E.T Ha la mente più grande Dal corpo Ali bamba 190 centimetri Ma non di altezza Attenzione 190 centimetri Da sdraiato Questa è la situazione Aspetta il ritiro 100 centimetri Da sdraiato 71 di velocità 64 di difesa 67 di testa 200 crediti Pagato Ragazzi 35 di tiro Boom Ma al centrocampo Il centrocampo Vuol dire che È qualcosa di speciale Perché al posto No 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 Non lo sanno come tutti Che al posto di mettere Noi non è che mettiamo Il centrocampo Noi non mettiamo Il centrocampo Il centrocampo Perché? Perché questo lo fanno tutti Noi siamo speciali Noi mettiamo gli attaccanti Noi siamo ACAM Noi mettiamo gli attaccanti Il centrocampo Infatti Perché ci mettono un cuore Ragazzi C'è Habibu Ma la cosa importante Perché è magico È il suo nome e cognome Habibu 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 ragazzi Sala gadù La mancica bula Habibu Habibu Mettele insieme Che accade laggiù Habibu Habibu Sala gadù Vi dico che schilla Come i pochi Schilla come i pochi Ammazza tutti Fa Magica bula Habibu 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 73 di velocità 43 difesa 69 di testa Ragazzi Sguardo Aghiacciando 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 Però devo dire che con 500 crediti È il giocatore più costoso della rosa Esatto Invece L'altro centrocampista Mamma mia Oddio Ragazzi Perché tira delle legnate Sì Tira delle Botte Tremende Infatti Lui si chiama botta Ragazzi Quindi in botta Le pere Bamba Bong Bong Bamba Cioè ragazzi Ma lui E tu dovrebbe esserci mille di intesa Ma il gioco è baccato Io non lo so Tre penedevole Due stelle di possibilità Ragazzi Amazing 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 Ma passiamo subito Alla destra Come prima Non siamo come tutte le normali persone Che in un'ala destra Mettono un'ala destra Cioè noi siamo proprio E mettiamo un terzino Innovativi Si sa che le alle destre Non ci mettono il cuore Quindi ci mettiamo i terzini sinistri E ragazzi Siamo qui a presentarvi Angolo Mamma mia 8-1 di velocità ragazzi Lui lo mette Lo mette dove? A B A B Lo mette a D Però è un TS Ma diciamolo L'ala sinistra vogliamo dire No l'ala sinistra No 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 L'ala sinistra È un po' troppo illegale È un po' troppo illegale Ciuula Ragazzi c'è una cosa da dire È un beccone Ciuula alla grande Lui Se ce n'è uno che ciuula Di velocità 56 di tiro 62 di passaggio Non vogliamo dire quanto cazzo è forte Stai di driving ragazzi Cioè io Io non ho parole Lui si Workrate alto normale Il meglio Madonna La punta di diamante A coronare questa magica squadra Io lo vado a prendere Non ci potrebbe essere altro che lui Chiamalo Chiamalo Vai a prenderlo Chi è? L'hai chiamato? L'ho chiamato Maioro Ma attenzione Guardiamo il nome Attenzione Maioro 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 ragazzi 176 centimetri Da sdraiato 81 di velocità 43 di difesa 71 di colpo di testa Ragazzi Quattro stelle Piede debole Dice tutto Ragazzi Questa squadra È veramente stupefacente Soprattutto per Mamba No cos'era Anche Mamba Fai bong Ma anche Santa Maria Ci bong Santa Maria Fai miracoli Quindi No adesso Vi facciamo vedere Una partita molto bella L'unica partita Che per adesso Abbiamo fatto con questa squadra L'unica sconfitta Però vi salutiamoci adesso Dai Quindi ragazzi Detto questo Spero che il video Vi abbia gustato Vi sia piaciuto Alla grande proprio Vi esalterei a stare Un bel mi piace E raggiungiamo gli 800 Io gli 800 Li vorrei Ma gli 800 Gli 800 Sennò arriva Bamba Da straitano Arriva easy Quindi ragazzi Adesso questo Oaxel Vi saluta E mi dico Potenta No E mi dico Potenta Palla da Oaxel Sunshine O minchia guardi Bolla 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 Io Mi sa che ho visto male Ma ha provato a scattare la bb Io ho visto male No Hai visto male Perché sono chiaro Ammazzo Ho visto male Io errori di gioco così grossi Non li avevo visto Diga Santa Maria Ma che cazzo di sicurezza Sicuro che Santa Maria Ti fa i miracoli Sicuro Ma che cazzo di gioco di gioco da sard No C'è le basse più brutte dal mondo Come cazzo fai a rire Basta Madonna 3 contro 1 Mettere Madon COSO Che cosa ha servito Oh Dio Oddio Oddio No 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 ma giorno Figa Se l'è passata da solo C'è talmente forte Che Che C'è proprio Se l'ha già immaginato L'azione No Se l'era già matta da solo Come la culata Come la culata Che è la squadra Che non ci crede Ma c'è No c'è No c'è È squadra C'è È una squadra Madonna Ma no Andrea Oh no L'aveva illuminato C'è Andrea Pirlo L'aveva illuminato Figa PC mod Bamba mod Madonna Oh No 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 Figa C'era minchia in mezzo No Aspetta Aspetta L'ho visto Lievità Aspetta Aspetta Che cazzo Volete andare Mia 8 dietro Mia 8 Guarda come si riva da solo Oh Oh Script No no Aspetta Pong 5.3 Oh Io ammazzo qualcuno Ammazzo qualcuno C'è una 7 e mezzo